Ci siamo rimessi in diretta, cerchiamo di riprenderci e di ritrovarci noi che eravamo già connessi e di connetterci con Aiello al primo buon tentativo. Vediamo se pian piano riusciamo a riprendere la diretta che stavamo facendo. Eccoci qua, riprendiamo la chiacchiera che stavamo facendo con Aiello. Qualche secondo per vederlo ricomparire con noi. Aiello, dicevi giustamente che parlavi giustamente di una incapacità di gestire l'emotività. No, però ti faccio un esempio che trovo adatto, cioè se lo fa Jimi Hendrix durante una solo o se lo fa John Coltrane durante una solo di sax, parlando di artisti altissimi, uno lo prende come un pregio, non come un difetto. Se lo fa un cantante, come sai, è più complicato, perché il cantante è lì, non parla attraverso uno strumento, nonostante abbia un microfono. Allora, questa incapacità io l'ho trovata positiva, ce l'ho trovata una roba di una verità travolgente, ce lo siamo detti la sera stessa. L'indomani, prendendoti appunto in giro, nel senso che giustamente era molto oltre quello che si fa normalmente sul palco di Sanremo. Però era molto bello, alla fine. Anche molto oltre quello che faccio io, perché io mi racconto come una persona carnale e passionale, ma onestamente anche nella mia massima passionalità non arrivo a essere così prorompente. Permetti però di dire, visto che io sono uno che in maniera evidente, onesta, si autocritica senza filtri, che io non sono stato neanche facilitato né quella sera dalle telecamere, perché onestamente avere una telecamera sbattuta in faccia renderebbe qualsiasi cosa completamente buffa. E devo dire che, in generale, io penso che se la stessa cosa l'avesse fatta un cantante, anche più affermato, più importante di me, probabilmente sarebbe passato molto come un grande momento di grande talento sdraripante. Cioè, lo ha fatto uno che è appena arrivato e che per molti era, chi è Aiello? Sì, certo. Allora questo non l'hanno perdonato. No, no, chi è sto pazzo che urla sul palco del festival? Esatto, esatto, esatto. Peraltro, poi, cioè, la cosa che io ovviamente, come sai, perché te l'ho anche detto, quel giorno successivo, io all'inizio riso, perché sono tendenzialmente una persona autironica. Però anche in questo caso mi va di essere molto onesto. Io mi prendo tutte le critiche del mondo e per me sarebbe stata una grande palestra, una grande lezione. Quello che però poi mi ha un po' dispiaciuto è che se circoscriviamo all'accaduto bene. Poi, siccome per me è la cosa più importante, anche la cosa che io credo di avere, io sono pieno di difetti e di limiti, ma una cosa bella ho, secondo me, la vocalità. Quindi a me è dispiaciuto molto che la prima serata io non abbia fatto passare questo. Poi c'è stata una fetta di persone che ha voluto divertirsi anche oltremodo su questo. La maggior parte sono subito ricreduti dalla seconda serata in poi. E poi col disco devo dire che se avessi potuto desiderare più persone di quelle non potevo, perché ho proprio visto completamente un'onda che ha mangiato... Il disco è entrato subito in classifica nei posti alti senza pause, senza problemi. Diciamo che, come dire, l'effetto Sanremo negativo non c'è più, non c'è proprio dubbio. Per fortuna no, per fortuna no. Senti, il disco è molto bello anche perché, dicevamo, partiamo dalle sonorità. È un mondo sonoro che è veramente tuo. Allora, ci siamo anche lì divertiti, io e te, sul pop all'Aiello, però è vero, è un disco di pop all'Aiello, nel senso che mette insieme tre elementi molto belli. La melodia, una melodia molto italiana, delle chitarre acustiche e un certo flamenco, che chiaramente richiamano Rosalia, o comunque artisti delle ultime generazioni che hanno recuperato questa attenzione, e una marea di elettronica nera, cioè non elettronica fredda, anni Ottanta, non New Wave, diciamo, ma elettronica legata all'Arembi. Allora, mi racconti il mondo delle dietro? Cioè, come sei arrivato a questa sintesi, a questa fusione? Io sono semplicemente uno che è cresciuto a pane e a Rembi durante gli anni di liceo, quindi tutta la scena soul, sia contemporanea di quel momento, che quella anche ancora un po' più vintage. Banalmente, banalmente tra virgolette, Barry White, Stevie Wonder, Winnie Houston, Ludel Van Dros, sono cantanti che io ho ascoltato a fianco ad Alicia Keys, Asher, Archelli. A quelli ho aggiunto la mia passione infinita per il cantatore italiano, dei tre giganti, Dalla Battisti, Rino Gaetano. E nella fase ultima di questo mio percorso musicale degli ultimi anni, nel quale mi sono avvicinato tantissimo all'elettronica internazionale, ho fatto ovviamente questa mescolanza. e mi piace il fatto che... Cioè, proprio vivere la musica in questo modo, come contaminazione. Io sto già immaginando il terzo disco, ma comunque sia, vedo sempre questo mescolare una serie di colori, e mantenere quel tipo di scrittura e di vocalità che è la mia, ma provare sempre ad avere diverse sfumature che si intrecciano, fino a trovare sempre una forma migliore per comunicare in maniera più diretta. Perché, onestamente, mi ha detto una persona recentemente, mi ha sorpreso che nessuno rimpiange ex voto. Cioè, tutti dicono, almeno i commenti, ex voto pazzesco, ma meridionale. E quando mi si muove una critica, perché tra l'altro ovviamente poi ci sta e devono arrivare, mi si dice, ex voto è più diretto, è più immediato. Meridionale ha bisogno di più ascolti perché è più complesso. E credo che sia in parte... Senza l'imparte, è sicuramente vero, nel senso che hai mantenuto l'impatto, appunto, melodico della canzone, del tuo stile vocale, ma la complessità dei ritmi e dei suoni rende l'ascolto non immediato. Cioè, ma in positivo, attenzione, io non penso che le canzioni... Cioè, ci sono alcune canzoni che sono fatte d'immediatezza. E uso un esempio estremo. Il ballo del Quacqua lo senti, l'hai capito e non c'è problema. C'è altra roba che invece merita che la gente si sieda ad ascoltare le canzoni. Io posso sentire Aiello mentre mi faccio la barba e lo faccio contento, però poi voglio e devo poter sentire Aiello seduto davanti al mio amplificatore cercando di capire che cavolo sta facendo. In questo, credo che questo album sia un passo avanti, obiettivamente lo è un passo avanti. Quanto ci hai messo a livello di produzione di suoni? Cioè, quanto lavoro ci ha voluto pre-Covid per arrivare a questo disco? Pre-Covid e durante il Covid è tanto. Per me, sai cos'era importante? Far arrivare un messaggio. Cioè, in maniera molto bella, lo dico, aprirmi più porte possibili. Cioè, darmi la possibilità, sin da subito, di dire, io vivo la musica in questo modo. In maniera tale che se il prossimo disco vuole essere un disco magari meno complesso, ok? Più diretto, io lo posso fare senza cadere nel disco e dici, ok, ma è poco. Io volevo dare tutti i colori possibili adesso per capire come vivo io la musica e poter dire, l'anno prossimo faccio un disco in cui anziché mescolare cinque generi ne mescolo tre, ne mescolo due, ne mescolo quattro. Cioè, darmi un'apertura adesso che sono all'inizio, quindi far conoscere a più persone possibili nei primissimi passi, come vivo io la musica. Poi magari, l'anno prossimo faccio un disco jazz o faccio un disco solo di ballad o faccio un disco solo di clubbing. Però per me era importante adesso, con questo disco, visto che sono ai primi passi per il grande pubblico, far capire che a me piace fare questo tipo di... Tante cose diverse. E misurarmi su più colori. Senti, che difficoltà hai avuto ad arrivare ad essere a Yello, però? Io, questo, noi ci conosciamo, ma credo di non averci l'ho chiesto, ma ancora la prima volta che ci siamo visti. Cioè, come sei arrivato ad essere, in qualche modo, quello che sei oggi? Che difficoltà hai avuto, soprattutto, diciamolo, partendo anche non da Roma o da Milano, ma da una regione dove obiettivamente è più difficile, non c'è niente da fare, senza che facciamo finta che non lo sia. Lo è, non ci sono club, non c'è, come dire, gli studi di registrazione, non c'è lo stesso humus che c'è qui o a Bologna o a Firenze, cioè in altre città. È stato difficile. Non solo è stato difficile a livello proprio, come dire, geografico e territoriale, perché le opportunità sono da Roma in su, per la maggior parte dei lavori in Italia. Ma è stato difficile anche sopportare una serie di, come dire, di situazioni in cui mi trovavo non neanche così raramente, e cioè il sorriso non cattivo, però quel sorrisino della serie sì, ok, sei bravo, ma magari, cioè, ma è difficile, ma è impossibile. Oppure quando tu per molto tempo ci credi e nel frattempo comunque hai gli studi, hai il tema lavoro, no? Far capire agli altri che per te l'arte è un lavoro. Cioè che per te l'arte è una cosa seria. Sì, sì, ma che lavoro fai? Ma sai quanti amici mi dicevano ma vai a lavorare? Ma non perché non credevano che io potessi diventare qualcuno, ma perché sapevano che era molto difficile perché anche la persona più aperta e anche più profonda a volte non pesa che fare musica è una cosa importante e che anche se magari i primi guadagni tardano ad arrivare, comunque è un lavoro che merita molto rispetto. Quindi è stato difficile, soprattutto quando non mi vedevo appoggiato da qualcuno, quando venivi in qualche modo tra virgolette deriso per il fatto che io ci credessi ancora a questa opportunità. E questo guarda che pesa quando tu sei una tavola con amici e quello dici io faccio questo lavoro, io faccio quest'altro, io desidero fare questo e tu cosa vuoi fare? E dico io la notte mi sveglio alle tre ragazzi, io scrivo canzoni, quindi io mi auguro prima o poi di avere un pubblico. Io dicevo questo, io dicevo che ero un cantatore senza pubblico qualche anno fa. Senti, ma cos'è che non ti ha fatto mollare? Cos'è che ti ha spinto a continuare lo stesso, soprattutto nei primi tempi, quando le cose non andavano per il verso giusto? Il fatto che io facevo, anche quando a un certo punto ho avuto diversi momenti di breakdown, uno in particolare, lo ricordo perché a un certo punto ho detto ok, basta, io non voglio più sognare, perché all'inizio poi associ la realizzazione anche con la ricerca del successo. E quello non arrivava. Allora io ho detto a un certo punto basta. Però io poi la notte mi svegliavo alle tre, alle due, e mi mettevo a terra a scrivere. Allora a un certo punto ho detto vabbè ma io forse non devo cercare il successo, io devo semplicemente continuare a fare musica. E mi sono autoprodotto il mio primo disco, Ex Voto. E poi forse perché non ho cercato più il successo, è arrivata Arsenico, è arrivato tutto quello che poi è scoppiato, perché in effetti io ho realizzato che non avevo più fame di fama, ma io avevo solo fame di musica e di essere apprezzato e riconosciuto per il talento che io ho sempre pensato di avere. Semplicemente questo. Le due cose infatti spesso non marciano con lo stesso ritmo. Cioè successo e crescita interiore hanno ritmi diversi, non è detto che debbano necessariamente incontrarsi. Però io trovo che con Meridionale tu abbia fatto un passo in più anche dal punto di vista espressivo. Cioè Meridionale è una presa di posizione al di là del titolo. Cioè nell'universo che tu vuoi raccontare è molto più definito, è molto più chiaro. Io stesso non ce l'avevo così chiaro con Ex Voto, devo dire la verità. Cioè ci siamo visti, mi piacevi, ci siamo parlati, non c'è dubbio, però dove cavolo volessi andare non mi era chiarissimo. Si è detto fra me e te. Cioè se appunto ti interessava maggiormente appunto il successo, la fama, il singolo buono e arrivederci o se invece dietro ci fosse un progetto come invece su Meridionale obiettivamente è chiarissimo che c'è un progetto cioè che va al di là dell'it single di vienimi a ballare o di ora o di quello che possono essere altri singoli di successo. Chi è che ti ha sostenuto in questa crescita? Cioè cos'è che ti ha fatto crescere e appunto smettere di avere l'ansia e scrivere e basta. Guardi io vorrei dirti vorrei raccontarti la storiella romantica che c'è una persona che ogni giorno ce la farai io non ho avuto nessuno che mi dicesse ce la farai anche i miei genitori non mi hanno mai ostacolato mai ma non mi hanno mai neanche detto figlio come se tu nessuno mai tu sarai un star tu ce la farai quindi onestamente non ho avuto nessuno e tutto quello che ho avuto me lo sono dovuto veramente sudare quindi io ringrazio sempre la musica perché per me la musica è come se fosse una tua identità ed è l'unica che non mi ha mai tradito quindi se c'è qualcuno che non mi ha fatto mai mollare è stata lei stessa proprio come consolazione come amica che non mi ha mai mollato come sensazione di destino io in qualche modo ho sempre avvertito una vibrazione una vibe di di essere destinato a qualcosa grande medio piccolo non lo sapevo però ero certo che prima o poi qualcuno mi venga ascoltato e rispetto a questa sensazione io non ho mai mollato per questo meridionale però ha anche un titolo molto forte di questi tempi è una dichiarazione come dire chiara di appartenenza considerando la prendo vaga che noi italiani siamo meridionali rispetto ai tedeschi e che i tedeschi sono meridionali rispetto agli svedesi però obiettivamente qualcuno è sempre meridionale di qualcun altro però di questi tempi dichiararlo fa differenza sì fa differenza in base a come interpretevo meridionale a me non interessava fare la lotta nord sud a me interessava intanto un omaggio alla mia terra di cui sono particolarmente orgoglioso dalla Calabria ovviamente io allargo molto e parlo di meridionale nel senso come i meridioni del mondo è inutile dire che meridionale nel mondo vuol dire qualcuno che deve combattere più di qualcun altro qualcuno che ha la pelle più spessa rispetto agli urti della vita qualcuno che ha meno opportunità degli altri quindi deve mettersi un coltello fra i denti e senza essere violento deve essere sicuramente più capardio e più determinato questo tipo di valori io sento di averli dentro e li hanno moltissime persone ma questi valori li ha anche magari uno che è nato a Bolzano quindi non vuol dire no no ma infatti io penso se posso mi permetti io credo che questo disco sia una bella dichiarazione in un momento di crisi dell'intero paese in cui se noi ci sentissimo tutti un po' appunto più meridionali e in grado di reagire a una situazione difficile tutti insieme sarebbe un passo avanti non indifferente quindi siamo tutti obiettivamente nella stessa parte nel senso proprio anche della carnalità della passionalità dell'accoglienza della generosità io sono valori che ovviamente riscontro particolarmente nella mia cultura ma appartengono a tantissimi italiani e a tantissimi nel mondo senza considerare il fatto che poi mezzo nord Italia è nato e generato dal sud quindi voglio dire non c'è nulla di non sto inventando nulla di non vero è tutto così è tutto vero e nel mio caso mi sembrava ancora più autentico poterlo dire io perché io ci sono nato in Calabria ci sono cresciuto e so che è una terra meravigliosa e come hai scoperto il flamenco in Calabria invece perché Cosenza in particolare è stata governata la Calabria è stata dominata dai borboni dagli spagnoli e noi abbiamo diverse come dire riminiscenze culturali anche culinarie uno dei dolci tipici di Cosenza è la barcheia che è un dolce fatto di pasta frolla a forma di barchetta che è proprio spagnolo quindi in effetti a livello culturale noi siamo figli di spagnoli incrociati ai greci incrociati ai normanni mescolati alle comunità balcaniche e siamo contaminazione pura la Calabria dovrebbe essere la regione manifesto in questo momento storico di come le diversità possono convivere quindi potrebbe essere un passaggio molto bello soprattutto oggi dove ancora alcuni insomma come dire si riempiono la bocca di quanto è bello essere diversi ma poi appena vedo una persona con l'occhio così il capello così vestito così subito tacciano come se fosse una roba così non giusta e invece per me è tutto giusto basta che rispettiamo la nostra identità e la nostra libertà e allora siamo giusti sempre senti cos'è che ti piace di più di questo disco però adesso quando te lo riascolti e ti dici uè ho fatto una roba niente male cos'è che ti ti convince di più che pensi che sia maggiormente pop all'aiello il fatto che riesco durante l'ascolto del disco a me capire di farlo intero nella giornata magari che riesco a commuovermi e ad aver voglia di ballare da solo in casa confermando quello che ho sempre sognato cioè io immagino i miei live momenti in cui le persone passano da una commozione da un abbraccio dallo scrivere all'ex e alla propria ex o al proprio ex perché hanno bisogno di dire oh torna qui oppure sei stato sconso alla voglia di ballare e studare e quindi come dico sempre abbracci e schiatti questa è la cosa che mi piace di più senti è bello del disco anche il fatto che ci siano molti silenzi cioè non è un disco pieno di suoni è un disco in cui le pause contano in cui i vuoti contano quanto i pieni in cui l'assenza di note ha lo stesso peso della presenza di note come hai lavorato alla produzione del disco e con chi? intanto forse per bilanciare il fatto che io parlo troppo come Mary quindi almeno nella musica c'è qualche silenzio ho lavorato insieme a due produttori che in realtà mi porto dal primo disco che sono Jacopo Sinigaglia in arte Braille e Alessandro Forte che sono due compagni di viaggio che io ho da Exvote e che sono convinto continuano a collaborare con loro e poi mi metto io dentro perché io durante la produzione non mi prendo neanche la pausa per fare la pipì perché sto dalla mattina alla sera in studio fino anche a notte fonda tutti i giorni perché per me è sempre tutto un lavoro di squadra nel ben e nel male ma durante la produzione a me spesso proprio viene in mente un esatto tipo di immagine di suono e io ovviamente che non sono un produttore ma sono un cantatore sto lì fin quando tutti insieme a sei mani non raggiungiamo quel tipo di suono e quel tipo di visione che io ho in testa quindi io non potrei mai scrivere una canzone e dire Ernesto producila grazie se ci vediamo fra tre giorni me la mandi io sto dentro di una canzone mi chiedo di leggere qualcuno dei commenti adesso ci provo ma dovete comprendere che mi devo mettere gli occhiali aspettate un secondo me li metto vediamo se riusciamo a leggere quello che ci dicono i nostri ovvio sei un grande che è chiaramente come dire mi pare naturale giochiamo in casa esatto ci sono come dire alcuni dei tuoi allora giustamente vedo almeno non hai steccato come molti cantanti ma perché avresti dovuto trattenerti che mi sembra del tutto ragionevole continuo così sei un grande ciao ma quanto sei bravo incapacità positiva parliamo dell'inizio della nostra chiacchiera perché sono emozioni vere c'è una cosa che mi piace credo dell'approccio che tu hai alle canzoni e che si nota credo che abbiano notato e che abbiano notato con piacere tutti i tuoi come dire i tuoi ascoltatori e che hai una visione della musica che rimane naturalmente popolare cioè non ci sono radici calabresi evidenti né della musica meridionale in generale al di là del flamenco ma se la vogliamo considerare meridionale ma c'è un attaccamento alle radici melodiche molto forti allora sono curioso tu hai citato tre cantautori moderni ma ci sono anche grandi voci del passato che ti hanno influenzato che ti piacciono o che conosci cioè hai avuto bene o male un rapporto con la musica tradizionale italiana o no perché bene o male si sente io ascoltavo in macchina con mio padre alcuni cantanti italiani erano Battisti Dalla Mina in macchina c'erano loro e Carmen Consoli però è molto più recente Carmen Consoli è contemporanea e che li mescolavo però appunto ai Barry White che non comprendeva all'epoca ai Ludovandros però ti direi dei grandi nomi del cantatorato di un tempo direi Rino Gaetano Dalla e Battisti e Mina Cos'è che ti piaceva soprattutto di Dalla e di Battisti sai che loro a Rino Gaetano non ne parliamo i testi sono tutti molto complicati cioè non raccontano né storie semplici né lo fanno in maniera semplice Assolutamente no però mi piaceva la loro sperimentazione musicale Battisti è quello che ha insegnato a tutti quanti noi cosa vuol dire mescolare più generi Battisti all'inizio faceva mescolava 6-7 mondi diversi Sì sì assolutamente e Dalla anche anche Dalla e mi piaceva di Dalla proprio il fatto che il suo modo di cantare con quelle pennate avesse una potenza cioè da un lato sorprendesse in qualche modo perché non era affatto scontato il suo modo di cantare ma al tempo stesso riusciva ad abbracciare era molto largo ed è quello che a me piace in generale di quello che io sogno nella musica cioè quello di poter fare sempre delle cose molto popolari molto larghe dei grandi abbracci senza essere cioè mantenendo dei tratti molto miei e quindi delle come dire delle cose molto uniche belle o brutte che siano ma delle cose molto distintive per cui se tu senti una canzone mia alla radio io voglio che tu possa dire sempre quello aiello ma su questo non c'è dubbio lo dico come complimento non c'è dubbio grazie se c'è una cosa io trovo che sia cioè di questi tempi come sai soprattutto attraverso il rap è abbastanza difficile come dire distinguere lo stile di uno dall'altro se non dalle parole cioè quindi dalle parole che usa ma non tanto per lo stile vocale che è andato come dire dopo anni di talent show e di grandi voci e di grandi cantanti cantare è andato un po' in disuso tra virgolette negli ultimi tempi compreso l'autotune che io non trovo una cosa negativa è uno strumento cioè c'è chi lo sautare e chi lo usa bene e chi lo usa male ma come è normale per qualsiasi cosa hai studiato canto ti domando cioè hai fatto lezioni da piccolino c'è stato chi ha provato a come dire arginare il fiume a civilizzarmi a livello canoro e da un anno e mezzo ho ripreso a prendere lezioni con la vocal coach perché comunque la voce è un muscolo che va allenato e quello che io ovviamente devo allenare più della voce è la gestione appunto dell'emotività detto questo ritornando in più nel tema Sanremo credo che Sanremo sia un evento assolutamente unico cioè non esiste palcoscenico al mondo live che ti crea quello scombussolamento interiore che fa Sanremo nel bene nel male quindi voglio dire sì sicuro tutti gli altri parchi sono praticamente delle passeggiate all'aria aperta in campagna d'estate o in spiaggia mentre invece quello di Sanremo è un pianeta completamente a parte quindi questo lo dico perché poi parliamo di gestione dell'emotività però voglio dire è una cosa molto per chi fa questo mestiere per noi è una roba abbastanza naturale solo su quel palco tu senti che insomma di stare su Marte dimentichi di stare sulla Terra quindi l'abbiamo sentito ormai digerire ho due cose da chiederti per il finale la prima è molto semplice cioè che succederà quest'estate se tu stai già prevedendo sperando che ci facciano come dire riaprire sale teatri piazze e club ma immagino comunque stai ragionando attorno a un live comunque cioè qualcosa farai quest'estate sì il mio tour parte ad ottobre e ci sentiamo molto fiduciosi perché ormai insomma sembra tutto chiarissimo che si potrà fare quello che noi stiamo augurandoci incrociando le dite di poter organizzare delle date addirittura quest'estate e quindi con molta probabilità se ci confermeranno che sarà possibile potremo dare delle belle notizie magari quindi possiamo anticipare qualcosa rispetto ad ottobre e una stiamo aspettando l'ufficialità degli scenari a cui assistiamo quotidianamente però ottobre è sicuro cambia le settimane ottobre è sicuro speriamo l'estate la seconda domanda è una domanda del tutto personale per chiudere che tipo è Aiello cioè se adesso tu dovessi facciamo conto che non ci siamo le persone che ci sono seguendo non ti hanno mai incontrato se ti dovessi presentare che tipo sei veramente uno che sembra duro a primo a primo sguardo uno che sembra molto forte e in effetti io mi racconto di esserlo perché comunque mi aiuta poi ad esserlo veramente un leone ma sempre bene esatto però però dentro veramente molto più morbide molto più fragile di quello che si possa di quello che possa sembrare uno che si fa mille critiche uno che non è uno che perdende tantissimo da se stesso io perdendo molto da me un intramontabile sognatore cioè io sogno tutti i giorni bellissima cosa penso che nulla sia impossibile è così è così ed uno positivo di natura nel senso che io sono tendenzialmente uno che sorride tutti i giorni almeno che non ci sia qualcuno che mi faccia incazzare io sono tendenzialmente uno che è sorridente alla vita in generale quindi sono questo senti io ti ringrazio mi fa molto piacere di aver fatto queste quattro chiacchiere con te spero di non averti annoiato troppo vai speriamo di vederci di vederci presto di persona e di appunto incontrarci a un concerto dove verrò con piacere a seguirti dove verranno di sicuro tutti quelli che ci hanno seguito oggi e che ringraziamo per essere stati con noi questo pomeriggio insieme ad Aiello e ci diamo appuntamento al prossimo appuntamento di web notte grazie grazie a te 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 grazie a te